In merito all'ampliamento della discarica di Roccasecca è intervenuta la deputata dei Cinque Stelle, Laria Fontana, dopo l'ok arrivato dalla Regione Lazio. La sopraelevazione di chiara la deputata pentastrellata della discarica di Roccasecca è l'ennesimo accelerato atto di una gestione dei rifiuti scriteriata da parte dell'Aggiunta Zingaretti. Siamo di fronte ad un ampliamento di quasi 300.000 metri cubi, l'autorizzazione è creare una collina di rifiuti a pochissima distanza dal punto in cui il fiume Melfa incontra i Liri. Tutto questo avviene senza una pianificazione del ciclo dei rifiuti e senza alcun legame con le reali necessità dei comuni della provincia di Frosinone. Il parere continua all'Area Fontana, positivo di valutazione di impatto ambientale, giunge malgrado la segnalazione dell'Asda sulla necessità di studi epidemiologici e la presenza di odori nauseabondi. La nota del Ministero dei Beni Culturali che segnala l'incompatibilità paesaggistica del progetto e la segnalazione da parte del Comune di Roccasecca riguardo a fenomeni di dissesto idrogeologico e frane già in atto. Per queste motivazioni ho ritenuto opportuno informare il Ministro Costa di tutte le criticità di qui sopra insieme a quelle gestionali, che sono l'ennesima dimostrazione come il futuro piano rifiuti del Lazio non sia così green, circolare e sostenibile. Come dice Zingaretti, difficilmente infatti con autorizzazioni simili si potrà guardare ad un futuro in cui l'Europa ci chiede di ridurre al 10% senza temere lo spauracchio dell'apertura di procedure di infrazione alle quali la gestione dei rifiuti del Lazio ci ha tristemente abituato negli ultimi 15 anni. La giunta regionale PD, conclude la deputata del Movimento 5 Stelle, dovrebbe curare la propria annuncite e iniziare ad investire seriamente in riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, cosa che non ha fatto negli ultimi sei anni di governo e che non sembra intenzionata a fare in futuro.